Personale della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia ha arrestato in flagranza di reato un 32enne slavo resosi responsabile del furto di materiale ferroso all'interno di un cantiere edile. L'uomo è stato sorpreso nei pressi di via del Centenario a Battipaglia mentre trasportava su un carrello circa 400 kg di ferro asportato nel cantiere. Dopo gli accertamenti di dito è risultato che anche il carrello usato per il trasporto del materiale era provento di un furto commesso mercoledì scorso ai danni di un commerciante di Battipaglia. L'uomo, già noto per precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in ricettazione e condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.